Ciao ragazze! Torno finalmente con un nuovo video. Questa volta parleremo dei prodotti Alchimia Natura. Ci tengo subito a dire che è un'azienda artigianale. Creano prodotti interamente biologici e non utilizzano prodotti di derivazione petrolifica. Quindi non utilizzano nemmeno siliconi o conservanti aggressivi e nemmeno coloranti e ne profumazioni di sintesi. E ovviamente essendo un'azienda che produce prodotti biologici non testano nemmeno su animali. Loro mi hanno inviato tre prodottini che ora vi mostro. Il primo prodotto si chiama Affior di Pelle. È una crema per pelli problematiche come acne, psoriasi e dermatiti. Io a loro ho specificato comunque con la pelle mista, quindi se me l'hanno inviata va benissimo anche per la mia pelle. Devo dire che il prezzo è di 20 euro, però già a me hanno inviato il campioncino. Adesso non riuscirò a vedere bene, ma poi ve la faccio vedere nel dettaglio. La sto provando da due settimane e non è ancora finita. Il campioncino comunque si ha da 15 e mi sta piacendo veramente tanto. Quando l'applico mi sento proprio la pelle morbida. Allora, devo dirvi che è una crema molto liquida. Quindi appena la vado ad applicare, ovviamente non ne serve tantissima. Io ne applico un puntino qua, 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 qua. C'è da dire che appena incominciate a cospargere il vostro viso di questa crema, lascia leggermente una patina bianca. Ma dopo pochi secondi che massaggiate, va via subito. Mi piace molto anche perché mi lascia la pelle veramente morbida. All'inizio forse leggermente un pochino unta, ma assorbe subito. E poi mi lascia la pelle morbida veramente per tutto il giorno. Il secondo prodotto che mi hanno inviato si chiama albicocca. È uno scrub al miele. Ora vi faccio vedere. È così. Il profumo è anche molto gradevole. Ecco, a fior di pelle ha un'odorazione di mentolo, diciamo. Mentre questo, avete presente il... Non so se si chiama nocciolo. Sì, forse è il nocciolo, comunque sia dell'albicocca. Ecco, la profumazione è quella. Perché infatti i grani che vedete dentro, appunto, è il noccio dell'albicocca tritato. E quello appunto sfoglia la vostra pelle. E devo dire che, dunque, il prezzo è di 22 euro. Ovviamente i miei sono sempre tutti campioncini. Poi se voi li ordinate saranno più grandi. Questo comunque è uno scrub levigante ed esfoliante. Contiene olio di nocciolo di albicocca, miele, proteine di grano e liquirizia, che serve per schiarire anche la pelle. Se andate a vedere sul sito c'è scritto di applicarlo una o due volte a settimana, dipende dal tipo di pelle che avete. Di applicarlo sulla pelle, massaggiarlo bene e aspettare che la crema, appunto, assorba, che la vostra pelle assorba la crema. E poi risciacquare. Io sinceramente lo faccio sotto la doccia. Sono sotto la doccia, quindi ho già la pelle bagnata. Me lo massaggio due volte, nel senso faccio la prima volta, sciacquo la seconda e la pelle morbida. È, diciamo, leggero come scrub, quindi non lascia assolutamente rossori sul vostro viso. E devo dire che io, per il tipo di pelle che ho, potrei benissimo utilizzarlo tutti i giorni, perché è una pelle che si sporca molto facilmente. Qui attorno al naso, soprattutto, me la sento sempre sporca se me la tocco, no? Infatti io utilizzo solitamente lo scrub a miele e zucchero fatto in casa e pur facendolo una volta a settimana non mi sento mai la pelle completamente pulita. Ma utilizzando questo ho notato che, io lo facevo più di due volte a settimana, sinceramente, la pelle rimaneva leggermente più pulita e me la sentivo anche meglio. L'ultima crema che mi hanno inviato è Atlantis, il costo è di 33 euro, vi ricordo sempre che il mio è un campioncino piccolo, quindi poi la crema sarà più grande. Questa è una crema antiossidante, rilassante e anche illuminante. È ottima per perle sensibili e stressate. Però io non l'ho mai provata, perché c'è scritto che è una crema ringiovanente, rilassante per viso e spirito. Io, avendo letto che è una crema ringiovanente, non l'ho utilizzata. Al massimo la farò utilizzare a mia mamma, però avrei potuto fargliela utilizzare adesso. Il problema è che ha avuto una brutta cosa sulla pelle, insomma, le sono successe di ogni. E quindi non potevo utilizzare creme normali, dovevo usare per forza creme che gli ha dato la dottoressa e cose del genere. E per questo non l'ho potuto provare, altrimenti la facevo provare a lei. Però, tutto sommato, vi posso garantire che i prodotti sono ottimi. Sono vegan ok, quindi se volete prodotti biologici, come ho detto, che non testate su animali e tutte cose con ottimo inci, queste sono veramente molto buone. Ci tengo anche a dire che in questa azienda coltivano loro le erbe, i frutti, che poi utilizzano per creare queste creme scrub. E quindi è un'ottima cosa. Io sono stata molto contenta di questi prodotti. Se vi interessa, vi lascio comunque il link giù nell'info box, così potete dare un'occhiata al loro sito e a tutto il resto. Spero tanto che questa recensione, review, vi sia piaciuta, che vi possa essere stata utile. Io comunque sia questi prodotti ve li consiglio. Mi sono piaciuti tanto, non perché me li hanno inviati, perché sapete che se una cosa non mi piace, io ve la dico, mentre se mi piace, assolutamente, ne parlo benissimo. Quindi vi mando un grossissimo bacione e ci vedo al prossimo video. Ciao!